Presentato presso la provincia di Teramo il progetto Castelli di Ceramica, un'iniziativa ambiziosa che vuole mettere assieme la tradizione secolare della ceramica di Castelli con il design contemporaneo in un contesto di rilancio concreto e fattivo in cui la filiera produttiva e il marketing guardano in modo positivo al futuro di un territorio. Un felice incontro tra la tradizione secolare di Castelli e l'innovazione e il design. Noi in questi anni di amministrazione, ormai sono sei anni che è l'onore di guidare il Comune di Castelli, abbiamo sempre cercato di far passare questo massaggio. Castelli ha bisogno di nuovi linguaggi, nuove forme e grazie a questo progetto presentato da un team a cui a capo c'è l'architetto Andrea Cinque, noi possiamo esportare i decori, la tradizione di Castelli anche in contesti di design grazie a questo manufatto che sarà realizzato dai nostri artigiani. Noi da in questi anni complicati, molto complicati perché la pandemia si somma soltanto a tanti traumi che abbiamo avuto in questi anni, abbiamo cercato proprio quello di riaccendere un faro su Castelli perché Castelli non è un comune di mille abitanti della montagna terramana, è un comune che ha sempre parlato al mondo, ci sono testimonianze in tutti i musei del mondo e noi dobbiamo tornare a parlare al mondo intero. Il design in questo caso è un volano per la qualità e per la tradizione artigianale e artistica di questi maestri, quello che noi facciamo è semplicemente riprendere tutto questo valore, metterlo a sistema per creare nuovi prodotti che siano più performanti all'interno del mercato globale, quindi attivare l'interesse di categorie di persone che ad oggi magari pensavano che il prodotto di Castelli fosse arte ma non vita quotidiana, invece noi riporteremo la bellezza di Castelli sopra le tavole di tutti coloro che vorranno pranzare con i nostri prodotti, che appaiono sui basi ma in realtà sono dei kit che permettono di arredare la tavola in qualsiasi tipo di contesto, la colazione, il pranzo, l'aperitivo. Questi prodotti potranno essere trovati nei normali canali dove vengono distribuiti i complementi d'arredo, potranno essere naturalmente trovati a Castelli e apriremo dei nuovi canali digitali per permettere l'acquisto anche online.